Promis, questo è il nome abbreviato di progetto missione, SRL, impresa sociale, è un'impresa che è nata in realtà non tantissimo tempo fa, è nata a un anno di vita, poco più di un anno di vita. Le attività che vengono svolte intanto sono quelle tipiche di un'impresa sociale in un territorio devastato come quello del cratere, la forza di questa impresa sono essenzialmente gli operatori, sono quasi tutti ragazzi, più della metà donne, lavorano nel sociale, intendo dire che di fatto sviluppano attività sul territorio di Amatrice, Borbona, Città Reale, Accumoli. Noi siamo lì, siamo presenti, quindi con i bambini, con i ragazzi, ripeto, in età più complicata, con gli anziani. Attualmente ci sono 15 operatori, ci sono sai dei picchi in cui siamo arrivati anche a 25, 26 operatori. Siamo nati sicuramente sotto la spinta della diocesi, però ha trovato certamente, come dire, animi predisposti. Potrebbe essere considerata figlia di, ma in realtà, insomma, evidentemente era un'esigenza che partiva un po' da ognuno di noi. Tra le esigenze che abbiamo rilevato stando sul territorio, anche perché di fatto per noi, diciamo, anche prendere un caffè con una persona del luogo e farsi raccontare un po' i disagi, anche le gioie, insomma, perché ci sono anche quelle, per fortuna, è un modo per star vicino e da lì escono fuori un po' di, no? Il terremoto di per sé ha azzerato tutto, cioè quindi ha azzerato sicuramente la parte, come dire, mattoni, fabbricati. E quel poco di sociale che c'era, anche esso è stato, come dire, raso al suolo, no? Affetti e quant'altro. Nelle attività che svolgiamo cerchiamo di lavorare anche con altre associazioni del territorio. Nel post-sisma ne sono nate, credo, una sessantina, cioè un numero, l'ho trovata, diciamo, un numero esagerato, ma, insomma, spinte emotivamente dal voler fare qualcosa che sia anche una cosa legittima, giusta. Bisogna lavorare insieme con loro per, ognuno con le sue peculiarità, con le sue caratteristiche, per fare il bene delle persone piccole e grandi, perché gli anziani sono in grado di trasferire nei più giovani quello che è stato quel territorio lì. Bisognerebbe ripartire dalla pazienza, sia chi vive all'interno di quei territori, sia le persone che sono al di fuori di quei territori. Ci vuole pazienza, perché non ci si rende conto di quello che significa vedere un paese lungo un chilometro e oggi vedere a destra e a sinistra 10-15 campi di calcio, perché è di questo che stiamo parlando. La pazienza spesso manca, quindi qualche volta anche come chiesa o come società di servizi legata un po' al mondo cattolico siamo un po' qualche volta soggetti ad aggressioni verbali, perché non stiamo facendo niente, in realtà bisogna immaginare che quello che è andato via con pochissimi secondi per ricostruirlo ci vuole del tempo, quindi sicuramente la pazienza bisogna metterla in campo. Ci sono siti in Italia dove la ricostruzione è stata ancora più lenta, io oggi giro per la matrice perché è il polo più rappresentativo, ma poi in realtà vanno tenuti in considerazione tutti gli altri paesi, tutte le altre frazioni, sono tantissime, vedo delle gru e lì stiamo parlando di case, di abitazioni, quindi probabilmente in primavera ci potrebbero essere, dico un numero, 50 appartamenti pronti per cui le SAE si cominciano a svuotare, è un segno, c'è in ballo il grande progetto Dominozzi, quindi la casa del futuro, ecco se cominciano a ripartire queste cose in realtà non stiamo parlando di un numero infinito di anni, per come riesco a capire io questa cosa?